Il primo lockdown, cioè il momento più buio visto attraverso gli occhi di alcuni giovani videomakers, questa è la scommessa della sede palermitana del centro sperimentale di cinematografia, ce ne parla Salvo Toscano nel prossimo servizio. Abbiamo girato per un anno intero, per più di un anno, quindi loro crescono, maturano davanti alla macchina da presa, insieme alla macchina da presa ed è stato un esperimento molto affascinante, molto bello che c'è quel anno, ma in quel momento erano appena entrati a scuola, le classiche erano al primo anno, quindi proprio i primissimi giorni di scuola si sono trattati chiusi in casa ed è stata una reazione la nostra, mia, dei miei collaboratori di stare intorno a loro, di non lasciarli mai soli un minuto e quindi abbiamo lavorato tanto insieme ed è stato molto bello.